E' passato oggi fuori concorso il film di Claudio Caligari Non essere cattivo, un film che è già arrivato qui a Lido con delle polemiche perché molti che l'hanno visto hanno pensato che fosse un film degno di essere in concorso e non in fuori concorso come appunto è capitato. Il motivo di questa polemica nasce dal fatto che Caligari è morto subito dopo il montaggio del film, è un autore di culto, ha fatto solo tre film appunto con non essere cattivo ed è considerato una sorta di uomo che ha omaggiato con i suoi film più volte Pasolini, la sua ostia, i suoi diseredati, i suoi coatti eccetera. Il film invece non è arrivato alla competizione perché ha detto proprio oggi Alberto Barbera, il direttore artistico, nonostante fosse valido il fatto che il regista era assente, era morto, poteva influenzare il giudizio in negativo o in positivo. Mastandrea che è stato un po' il motore di tutto questo ha mostrato rimpianto per questo fatto più che altro dicendo che questo ha creato un'occasione persa per i due grandi protagonisti del film che sono Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Sono due giovani che vivono dopo l'esperienza di amore tossico, è un amore tossico dieci anni dopo, che vivono in una periferia urbana in cui oramai ci si fa di roba non solo per sballare ma anche per comprarsi le scarpe inglesi, per avere belle macchine. Insomma un cambio generazionale raccontato benissimo da Caligari. Ammasse come un cane, dammi tutto quello che c'è al cazzo. No, non si è staccato, non si è staccato. DAGLI! DAGLI!